Ci siamo, comincia ufficialmente domani la nuova avventura dell'FC Bassano 1903. Inizia dalla Coppa Veneto, inizia dalla sfida contro l'Arsie, lontano dal mercante, inutilizzabile per cavilli burocratici. Comincia alle 17 al campo sportivo di Sacro Cuore, impianto che in queste settimane ha ospitato la preparazione dei giallorossi. E domani per tutti inevitabile ci sarà anche un po' di emozione nel vestire la maglia del Bassano. C'ero arrivato che ero ragazzino, ci ho giocato da giocatore e credo che non solo per me, credo per tutti i ragazzi che fanno parte di questa squadra, credo che ci sia emozione. Assenti gli infortunati Gallina e Bertollo, non potrà debutare in Coppa neppure il giovane ugandese Solomon Ovoio, per il quale le pratiche di tesseramento richiedono ancora qualche giorno di attesa. Fuori anche Davide Xamin, tenuto precauzionalmente a riposo per un risentimento muscolare, e Ilario Ziliotto ferma un turno per una vecchia squalifica. Uomini contati insomma per Mr. Maino che alla Coppa mette e tiene quanto al campionato. Viene snobbata credo da qualche club che non ha mira di vincere un campionato, ma credimi che le squadre che fanno un campionato da vertice, se devi pensare che in campionato sono 30 partite e in Coppa sono 8, se vinci la Coppa vai su, quindi credo che per noi, almeno per noi, è importantissima. Difficile al momento giudicare gli avversari in un campionato che vedi giallorossi al debutto assoluto. Io credo che ci sia un campionato che non ci sia la squadra magari da battere o da preoccuparsi, credo che ci siano ogni domenica che noi dobbiamo andare in guerra.